C'è un locale a New York sulla First Avenue piuttosto famoso, si chiama Catch a Rising Star. È famoso perché è sostanzialmente il luogo dove è nata la stand-up commedia all'americana e se vuoi fare il comico quasi necessariamente devi passarci. Nel 1976 sale sul palco un giovane ragazzo. Va detto che non parte benissimo perché non è bellissimo, ma non è neanche quel bruttino, passatemi il termine, che a volte aiuta la comicità. Inizia il suo pezzo, dopo un minuto non ride nessuno. Passano due minuti non ride nessuno, passano tre minuti non ride ancora nessuno. C'è il silenzio in sala, dopo cinque minuti partono i fischi, quasi per fortuna, ed è costretto a lasciare il palco. Chiunque di noi si sarebbe fermato, avrebbe detto no, questa non è la carriera che fa per me. Invece il ragazzo sale la sera dopo, riesce a finire il suo pezzo, sale quella dopo ancora e il pezzo pian piano prende forma. Va detto, visto che il ragazzo in questione era Jerry Seinfeld, forse oggi quell'insuccesso è soltanto un puntino in una carriera sterminata. Vi basti pensare che quello che è uno dei comici americani più importanti di sempre, oggi per ogni singola puntata dello show che porta il suo nome, guadagna circa 250 mila dollari. Questo per dirvi cosa, che a volte per avere successo bisogna prendere una porta in faccia, bisogna incassare un no. Tutto sta a come lo incassi e a come riparti. Anche per questo è il momento del nostro colloquio di lavoro. Diamo uno sguardo al nostro colloquio e lo facciamo con Fabrizio D'Afano e Stefano Raia. Come sempre vi tocca il compito muscolare di aprire il nostro container. Allora, questa settimana siamo al centro pubblico dell'impiego di Legnano in provincia di Milano, che ringraziamo. Ringraziamo anche Cornelia Grindatto e Pierluigi Braga, che fanno un lavoro straordinario tutte le settimane su questo colloquio. Il posto in questione è un posto da contabile esperto. Quello che andiamo a vedere è il colloquio di Laura Calcagno, 44 anni, diploma di maturità tecnico-commerciale, attualmente è anche iscritta all'università e fra l'altro sembra particolarmente adatta perché segue il corso di economia aziendale. Se siete d'accordo, daremo un'occhiata. Mi chiamo Laura Calcagno, ho 44 anni, sono diplomata in ragioneria, ma è da qualche anno che ho ripreso l'università e sto studiando economia. Sono alla ricerca di un lavoro. Io ho già visto il tuo curriculum, però mi piacerebbe che tu me lo raccontassi. Possiamo darci del tuo, Laura? Allora, io arrivo da un'esperienza lavorativa che si è conclusa un mesetto fa per un riassetto dell'organico e ho lavorato tre anni in questa multinazionale dove mi occupavo principalmente della gestione dell'ufficio e delle persone all'interno dell'ufficio. Quindi anche con la presentazione dei corsi sulla sicurezza e tutto quello che riguarda il personale per l'adempimento. Ecco, tutti gli adempimenti tra l'azienda e il personale. Allora, va detto, ispira tanta fiducia. Laura, se posso permettermi, sembra molto provata dall'aver perso il posto di lavoro, sbaglio? Sì, sì, presumibilmente. Però c'è da dire una cosa. Allora, premesso che il profilo professionale di Laura calza pienamente con la posizione ricercata, quindi questo già dovrebbe essere un grande vantaggio, no? Anzi, lo è per la persona che si candida. Qui però scontiamo un problema di inizio colloquio. Spesso l'emozione gioca brutti scherzi, come in questo caso. Allora, il suggerimento qual è? Di prepararsi molto bene prima, proprio per la fase iniziale del colloquio. D'altra parte, chi può avere maggior cognizione di causa di sé se non il candidato? Quindi, mettiamo in ordine il pensiero e diciamo qual è stata la nostra esperienza professionale, perché altrimenti corriamo il rischio di avere queste grandi esitazioni. Quei silenzi che non fanno mai bene. I silenzi, no, certo. Magari vediamo il resto del colloquio. Vediamo come è andata. Cos'è stata la situazione più gratificante nell'essere responsabile di un gruppo di persone? Che cosa ti ha dato di più? Ma la riconoscenza, nel senso che una ragazza in particolare è andata a lavorare da un'altra parte e mi ha scritto un messaggio dicendomi che grazie a quello che le avevo insegnato io lei era riuscita a prendersi questo lavoro, insomma, perché lei arrivava da una scuola turistica e non sapeva nulla di contabilità e però io gli spiegavo... a me piace spiegare, quindi gli spiegavo proprio come era il principio matematico che sta dietro al principio contabile, insomma, e quindi lei poi in questa azienda mi ha detto che ha ottenuto il posto grazie alle tue spiegazioni. Che meraviglia che è la macchina umana, cioè quando diventa una roba di emozioni, finalmente ci ha fatto vedere gli occhi. Siamo in una fase di recupero rispetto, ovviamente, alle esitazioni iniziali, perché è vero quello che dice Fabrizio, perdere il lavoro a 44 anni e doverlo cercare, comunque è molto faticoso, lei spende poco delle sue competenze, ma qui ci racconta cosa significa coordinare un gruppo, valorizzare le persone con cui si lavora, riuscire a tenere insieme le persone, quindi è una risposta di una collega che ognuno di noi vorrebbe avere. Ecco, qui ovviamente il punto è sempre la posizione per cui concorre Laura, una posizione molto tecnica, non sono richieste necessariamente delle doti umane, insomma di condivisione particolarmente forti, però comunque ci sono. Cerchiamo di capire lei che valutazione dà del suo colloquio, cerchiamo di capire anche quanto è onesta con se stessa. Ho finito adesso di fare un colloquio, mi sembra che è andato abbastanza bene, ho dato tutto il mio massimo, sperando che la ricerca vada a buon fine. Se dovessi darmi un voto, mi darei sempre 10 elode, perché ci si impegna sempre al massimo. Sì, però gli sforzi... 10 è l'impegno, magari. Lo so, però gli sforzi non vanno confusi con i risultati, mai. Quindi sicuramente c'è stato un grande impegno, lo ripetiamo anche motivo, però io mi concentrerei di più alla fine della prima fase del processo di selezione, perché questo è il primo colloquio, l'azienda la devono ancora incontrare. Mi concentrerei di più su cosa ci sia da migliorare, non tanto su quello che già abbiamo portato a casa. Questo è il principio fondamentale che costruisce una mentalità poi, diciamo, vincente. Altrimenti non andiamo avanti. Eh sì, anche l'autovalutazione è una competenza, quindi probabilmente questo gli manca. Mi verrebbe da usare la frase antipatica che si usava nei colloqui con i professori. Se si applica può fare molto meglio. Molto meglio. Noi facciamo un boccalupo gigante a Laura, le facciamo un applauso con la speranza di questo posto, qualunque altro posto diventi suo. Grazie Stefano, grazie Fabrizio.